Allora, non sono Paola, sono Federica, mamma. Quando ci azzeccherai? Cosa sta dicendo la mamma, Federica? Si è messa in testa che vuole un computer nuovo per il suo compleanno, ma non me lo posso permettere. Non hai abbastanza soldi sul conto? Proviamo a vedere. D'accordo. Buongiorno, è la Banca Speech. Sono Antonio. Come posso aiutarla? Pronto, sono Federica Favalli. Vorrei sapere il saldo del mio conto o della carta. Puoi inviare una richiesta via SMS al numero 314. Scusi, Antonio, non so perché, ma ho qualche problema con gli SMS. Può allora fornirmi per favore le ultime quattro cifre della carta che desidera verificare? Ehm, un secondo. Dovrebbe essere qui. Trovata 0432. Mi scusi, ma la banca non mi autorizza a fornirle questa informazione. Deve rivolgersi alla filiale più vicina. Ho un'idea. E se il computer glielo comprasse io?